La Nissa, con una nota, ha informato che le notizie diffuse su un'eventuale disputa a porte chiuse del derby domenica tra Nisse e Acragas sono prive di fondamento. La decisione della Prefettura riguarderà soltanto la presenza o meno sugli spalti dei sostenitori della formazione agrigentina. Nella giornata odierna si avranno notizie dell'Osservatorio Nazionale sulle manifestazioni sportive, circa la classificazione di rischio dell'incontro e l'eventuale divieto di vendita di taglianti agli ospiti. Abbiamo ascoltato in merito il direttore generale Vincenzo Cancelleri. Relativamente alla partita di domenica, ad oggi non c'è nessuna comunicazione ufficiale, se non documento il ministro dell'interno dove attenzione alla partita Nisse-Aragas. Gli organi competenti ti comunicheranno entro la giornata di oggi se ci sarà la partitazione della difuseria ospite. E comunque noi, ieri con una nota sulla nostra pagina Facebook, abbiamo rassicurato tutti i tiposi che ad oggi non c'è nessuna notizia ufficiale. Noi speriamo di poter avere anche una difuseria ospite perché sarebbe una bella domenica di sport, ma comunque non dipende dalla società. Noi ci adegueremo a quelle che saranno le indicazioni da parte della questura. Grazie. Grazie. Grazie.